Esperienza e capacità di salire su un treno in corsa, come già accaduto diverse volte in carriera. Anche per questo la scelta del Casarano per prendere il posto dell'esonerato Vincenzo Feula è ricaduta su Nevi Orlandi. 67 anni, radici a Casal Maggiore in provincia di Cremona e un passato da globetrotter della panchina alle spalle. Legato indissolubilmente alla Regina, dove ha allenato tutte le giovanili fino alla primavera, fino a giungere alla guida della prima squadra con 18 punti in 12 partite e una storica salvezza nella Serie A 2007-2008. Orlandi torna alla guida di un club a più di un anno e mezzo dalla sua ultima esperienza, quella con la Vibonese, società riportata in Cine il 2018 e condotta alla salvezza nella stagione successiva. Quella a Casarano non sarà la prima volta in Puglia per Orlandi. Ha infatti già allenato il Toma Maggi in Serie D nel campionato 97-98 e il Barletta nell'allora prima divisione dal marzo 2013 all'aprile 2014. Memorabile la salvezza ai play-out contro l'Andri a traguardo insperato al momento del suo arrivo in bianco-rosso. Non solo salvezze nel curriculum di Orlandi. A febbraio 2016, per esempio, fu chiamato a Grosseto in Serie D, chiudendo al secondo posto nel girone e perdendo poi la semifinale play-off contro l'Olbia. Ora riparte dal Casarano con Francesco Modesto come vice e Michele Ventura nei panni di preparatore atletico arriva in un club ambizioso allestito dalla famiglia Maci con il chiaro intento di tornare tra i professionisti e oggi secondo in classifica a meno uno dalla capolista Taranto, club accomunati dalle tre gare da recuperare rispetto al calendario e avversari nello scontro diretto del 21 marzo. Sette giorni prima sarà tempo dell'esordio per Orlandi nel recupero casalingo contro il Sorrento. Intanto nel suo arco c'è già una freccia in più l'esterno d'attacco Alessandro Ficara prelevato dal Gravina. Grazie. 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 Grazie.